ciao e benvenuto sul canale della sicurezza z io sono luigi perrone in questo video parlerò delle soluzioni di crittografia disponibili per gli ambienti enterprise tutti ormai conosciamo la crittografia in quanto già sperimentata in passato e utilizzata tuttora soprattutto per scopi di protezione dei dati durante le trasmissioni durante le comunicazioni passando dal dato in chiaro al dato cifrato e poi ancora al dato in chiaro e faccio ovviamente riferimento quei protocolli ipsec ssh ssl tls ampiamente utilizzati oggigiorno ogni volta che intraprendiamo una transazione bancaria o una transazione di acquisto sul web ad esempio con amazon encryption che risulta necessaria essenzialmente per due scopi primo è quello di evitare la violazione del dato assicurando nell'integrità come ad esempio il caso del man in the middle la seconda confermare l'identità o la veridicità del mittente del destinatario o anche nel caso del digital sign in entrambi i casi si fa uso di certificati digitali certificati basati su coppia di chiavi crittografiche quindi pubblica e privata in quanto siamo in presenza di crittografia asimmetrica chiavi che vengono attribuite a una specifica identità tutto questo si è reso necessario proprio perché dal momento in cui vado ad aprire i miei sistemi a un'interazione spinta con altri ambienti sottopongo i miei dati a rischi notevolmente superiori rispetto a quando questi vengono trattati ed elaborati all'interno di un perimetro ben confinato ben definito come potrebbe essere la mia intranet o comunque la mia rete aziendale ma questo concetto oramai non credo abbia più molto senso visto che la necessità di fruizione del dato ha richiesto una forzata apertura dei sistemi come ad esempio quella che abbiamo vissuto nel mondo z dove abbiamo visto il nostro mainframe aprirsi verso tutte le nuove tecnologie ed interazioni sempre più spinte sempre più diversificate nonostante ciò esistono ancora realtà in particolare in ambito z un po pigre nell'adottare protocolli di sicurezza in maniera così estesa per ogni tipo di comunicazione ovviamente esterna ma anche interna ma siamo sempre in tempo ad agire e porre rimedio andando a modificare opportunamente la configurazione dello stack ip ad esempio magari tramite l'ausilio dello zsmf introducendo la sezione relativa protocollo ttls quindi configurando il policy agent definendo le porte relative ai servizi che si vuole utilizzare in modalità protetta poi ovviamente e cosa occorre occorre un repository per la gestione dei certificati digitali ma per questo generalmente si usa il nostro security server come il rachef impatti sul sistema dal punto di vista prestazionale o gestionale ma direi contenuti in quanto l'esercitazione dei protocolli di sicurezza ha un'incisione minimale sulla cpu del sistema se poi è dotata di schede cripto chiaramente mentre da un punto di vista gestionale occorre prendere in considerazione il numero di certificati da gestire per capire l'entità e la tecnica migliore per poter gestire il loro ciclo di vita e comunque stiamo parlando di uno stadio ben preciso del dato e cioè quando questo si trova in movimento o in fly e quando invece il dato è fermo inattivo detto at rest quindi viene quando viene storicizzato su qualche supporto hardware disco nastro e così via beh non possiamo non constatare come sia cresciuto a dismisura l'interesse verso questo stadio del dato essenzialmente spinto da standard di sicurezza e normative di diverso genere che trattano sempre la tutela del dato ma anche dal fatto che il dato stesso non ha più confini necessita di una protezione intrinseca proprio perché può essere trattato localmente esternamente e su cloud o dove comunque dove vogliamo quindi concentriamoci un attimo sull'abilitazione dell'encryption per il dato fermo se vogliamo ben vedere anche questo tipo di applicazione dell'encryption non è nuova in quanto è stata adottata in alcuni casi con delle esigenze di protezione specifiche del dato ricorrendo sistemi software gestiti direttamente a livello applicativo per poter trattare una base dati generalmente ristretta quindi selezionata per cui veniva richiesto un alto livello di protezione stiamo parlando del livello alto della famosa piramide dell'IBM che vediamo qui rappresentata in una nuova modalità che riporta la protezione appunto del dato fermo stando su z è un altro caso d'uso che è stato utilizzato da alcuni clienti e quello fornito dalla soluzione software encryption facility for z os capace di fornire anche il supporto pgp ad esempio trasferire i miei dati in maniera cifrata fuori dal perimetro del mainframe quindi su un'altra piattaforma capace di utilizzare anch'essa il pgp per decryptare i dati questi sono però solo due esempi che si applicano a una specifica porzione di dati ben selezionati e su cui si è voluta conferire un'alta protezione dove invece si è vista l'applicazione dell'encryption at rest su grande scala e sui dispositivi storage con a bordo la feature di encryption e qui possiamo sbizzarrirci con le diverse tipologie ma essenzialmente parliamo di sempre di dischi e nastri dove viene criptato l'intero dispositivo e quindi tutti i dati contenuti in esso questa encryption la si applica essenzialmente per evitare manomissioni del dispositivo con possibile perdita dei dati soprattutto quando c'è trasbordo del supporto di memorizzazione ad esempio da un centro ad un altro vantaggio di questo tipo di soluzione è quello di scaricare completamente all'hardware all'unità di controllo del disco l'onere di criptare e decryptare i dati svincolando completamente il sistema operativo la cpu dall'onere di esercitare l'elaborazione di encryption senza alcun tipo di sovraccarico aggiuntivo e poi poi c'è la facilità di implementazione generalmente avviene sempre in tempi molto contenuti poco invasiva in termini di continuità del servizio e quindi di disponibilità del dato peccato però che con questa soluzione non si riesce ad essere granulari sul dati ad esempio potendo selezionare a differenziare porzioni di dati per singola applicazione o per pool di applicazione addirittura per singolo file cosa devo fare per abilitare questo tipo di encryption innanzitutto devo sincerarmi di avere i giusti livelli di hardware software quindi dovere una macchina z14 o z15 uno z os 2.3 o superiore e a quel punto si tratta solo di effort implementativo quindi a livello di componenti base i csf per hf sms per iniziare a predisporre e avviare il processo di encryption è anche vero che l'attenzione spesso si concentra laddove risiedono i dati più importanti più sensibili cioè nei database e con la nostra dataset encryption possiamo tranquillamente operare anche a livello di database di file vusam che sono i file che costituiscono poi il nostro db2 sì ma io non voglio incidere sull'intero database perché ho già identificato una porzione di dati che voglio criptare quindi voglio andare a criptare solo certe colonne oppure determinate righe beh se ho questo tipo di esigenza in ambiente z os posso intervenire mediante le built in function del db2 che vanno utilizzare lo stesso strato hardware impiegato per la dataset encryption mediante l'uso di specifiche routine specifiche call che vanno a richiamare i servizi di encryption per punto criptare e decriptare il dato anche in questo caso l'applicazione non richiede dei cambiamenti ma sono necessarie alcune modifiche a livello di oggetti db2 per permettere l'utilizzo quindi l'aggancio delle routine di encryption consumi beh non aspettiamoci riscontri molto differenti dalla data set encryption perché se siamo sempre in presenza di hardware z14 e z15 sfruttiamo la stessa infrastruttura poi dobbiamo anche considerare che l'encryption per il db2 in maniera così granulare viene effettuata per un amore di dati selezionati quindi circoscritta e non per l'intero parco dati e quindi abbiamo visto come il dato sia già securizzato su z dalla pervasive encryption da altre tecniche messe a disposizione dalla piattaforma stessa si tratta ora di assicurarsi che il dato sia securizzato lo stesso modo anche quando si trova in ambienti distribuiti fino a poi spingerci oltre sulla piattaforma cloud con cui voglio cominciare a interagire per gli ambienti distribuiti ibm ha una sostanziosa suite di prodotti per l'encryption del dato in tutte le sue forme e che fanno capo alla soluzione principica che si chiama guardian data encryption una suite di moduli specializzati per le diverse forme di encryption a livello di file a livello di database della data a livello di application encryption oppure anche specifici per la tokenization e non solo perché le ultime versioni forniscono il supporto anche per l'encryption su containers e su cloud quindi diciamo una suite moduli completa controllabili da un unico punto di gestione fornito dal modulo centrale che è il cyber trust manager o più comunemente chiamato data security manager e con questa soluzione riusciamo a soddisfare tutte le esigenze di encryption per gli ambienti distribuiti e anche per la gestione delle chiavi in ambiente distribuito sempre e per il cloud per il cloud ibm fornisce tutta la serie di servizi pronti a soddisfare l'encryption quindi la protezione del dato si tratta solo di capire bene le esigenze i requisiti i livelli di sicurezza che devono essere garantiti per orientarsi su una soluzione piuttosto che su un'altra e faccio riferimento ai servizi ibm key protect o ibm hyper protect che possono basarsi su tecnologia z linux o linux one per appunto conferire tutte quelle potenzialità di encryption capaci di soddisfare le diverse esigenze questa stessa tecnologia è anche a supporto della soluzione gd e per il key management quella che abbiamo visto prima e quanto in quanto è capace appunto di integrarsi per fornire protezione con hsm di cui parleremo nelle successive slide quindi ripensando tutto quello che abbiamo visto sulle possibilità di encryption del dato potremmo dire di essere pronti ad affrontare la tematica di encryption a tutto tondo in un contesto che possa abbracciare quindi diversi ambiti quelli finora esplorati proiettandoci verso un'ottica ibrida di hybrid cloud assicurati dal fatto che appunto l'encryption è applicata o meglio è applicabile ad ogni livello magari ottenendo un encryption di tipo end to end e a proposito di end to end un approccio molto diffuso in presenza del dato condiviso tra molteplici piattaforme è quello detto asilos o quello che viene chiamato metodo punto a punto cosa significa significa che il dato si sposta da una piattaforma ad un'altra partendo da una forma criptata sulla piattaforma di origine per essere immesso in rete sempre criptato e arrivare sulle altre piattaforme a questo punto la piattaforma diventa responsabile della gestione del dato quindi della sua sicurezza ed esercita la decryption per poi esercitare nuovamente l'encryption del dato per trasferirlo su un'altra piattaforma successiva questo tipo di approccio seppur valido può presentare però alcune difficoltà in particolar modo in quegli ambienti complessi in ambienti enterprise appunto dove ci si trova spesso ad operare con strumenti soluzioni di criptografia diverse tra di loro creando non poche difficoltà nel controllo della protezione del dato ad esempio mi viene in mente da un punto di vista normativo andare a cercare di dimostrare ai revisori che i dati sono stati protetti e che vengono protetti in rispetto alle normative può diventare estremamente difficile e quindi ci si mette alla ricerca di una nuova soluzione capace di fornire un approccio end to end con una gestione centralizzata ciò significa che mentre i dati viaggiano sulle diverse piattaforme questi sono sempre gestiti da un'unica soluzione che sfrutta un hub di policy centrale indipendentemente da dove si trovano i dati parliamo di una soluzione detta data centric end audit protection dcap che IBM è in grado di fornire proprio tramite una componente della famiglia hyper protect che abbiamo visto prima e che viene chiamata appunto hyper protect data controller vediamo un esempio di funzionamento in questo caso abbiamo tre tipologie di end user che necessitano di effettuare una query per estrapolare dei dati ogni richiesta viene gestita centralmente dal data controller che invierà la query a un data warehouse a un data lake cloud ibrido o altra piattaforma sempre però protetta e controllata dal data controller come risposta avremo che tutti i campi sensibili protetti con gli encrypted data object verranno visualizzati come dati criptografati in funzione dei metadati contenuti del data object e delle policy centrali contenuti nel data controller questi verranno presentati in maniera diversa quindi modalità mascherata criptato in chiaro a seconda appunto del ruolo dell'utente così i tre ruoli che abbiamo qui il data owner il data scientist e il customer service riceveranno differenti visualizzazioni del dato proprio in conformità con la policy definita nel data controller una volta che il dato è stato visualizzato ad esempio dal data scientist posso poi decidere di revocarne l'uso di revocarne l'accesso in modo tale da non poterlo più visualizzare ad esempio per un cambiamento delle policy che prevede l'inaccessibilità del dato da parte del data scientist una volta visualizzato e finiamo con una sintesi di tutte le soluzioni che abbiamo visto fino adesso quindi come un quadro di insieme di quello che è possibile fare con l'encryption sulle diverse piattaforme beh sull'ambiente z quindi sull'ambiente legacy possiamo agire con la pervasive encryption oppure con tecniche di encryption sempre fornite dal sistema operativo di base sulla piattaforma distribuita quindi lì windows linux unix abbiamo la soluzione guardian data encryption che ci aiuta a criptare a gestire l'encryption per quanto riguarda database della data file e così via poi abbiamo la soluzione a livello di storage che risulta trasversale tra tra i due mondi perché perché gli storage possono essere utilizzati sia dall'ambiente legacy che dall'ambiente distribuito e che svincola diciamo i sistemi dall'onere di criptare i dati perché ci pensa proprio lo storage ad effettuare l'encryption al decryption del dato questo per quello per quanto riguarda le soluzioni on premise per quanto riguarda le soluzioni cloud cosa abbiamo abbiamo i nostri IBM cloud hyper protect services che si occupano in toto della gestione della criptografia del dato e infine abbiamo anche la soluzione della protezione del dato end to end quando vogliamo proteggere il dato mentre questo si sposta dalla piattaforma ad un'altra utilizzando proprio una componente della famiglia hyper protect che si chiama hyper protect data controller e con questo ho concluso vi ringrazio per l'attenzione e se volete ci risentiamo nel prossimo video ciao da luigi